La crocefissione è quello dell'olocausto, perché come Gesù subì la crocefissione, così gli ebrei subirono l'olocausto. Sono qui rappresentati tutta una serie di elementi indicativi del martiglio, la croce, la coluna di spine, il simbolo del tempo, quindi della resa dell'olocausto, la resa finale, i numeri che venivano indicati sul corpo dei deportati, la stella di David, ma anche oggetti appartenuti agli stessi come la cornice, e tutta questa serie di elementi accuminati che fanno riferimento alla tematica della passione, della sofferenza e dunque della crocefissione di Gesù. Questo è l'olocausto di Mimmo Santa Cruz.